Beh, davvero complimenti, un enorme capolavoro, fenomenali. L'obbligo dal 2035 della vendita di sole auto elettriche è una totale follia. È una miopia dell'Unione Europea che porta l'industria dell'auto ad una pesantissima crisi. Nel 2023 le società del settore che hanno chiuso sono state il 13% in più rispetto all'anno precedente. Fabbriche chiuse, licenziamenti, auto in vendute, crisi aziendali. Una volta alla sinistra si occupava dei poveri e dei lavoratori. Beh, i poveri l'auto elettrica non se la possono permettere. Per quanto riguarda i lavoratori, sono 13 milioni i lavoratori nel settore. Si parla di 750 mila posti di lavoro a rischio. Tutti sacrificati sull'altare del green. Gli unici a ridere e a festeggiare sono i cinesi, con i quali qualcuno pensava di poter competere. E che per produrre il nostro green aumentano le centrali a carbone. Beh, davvero complimenti. Un enorme capolavoro, fenomenali. Grazie mille.